Sapete che sono quasi 20 milioni i cani e i gatti che vivono nelle nostre case e i familiari a quattro zante? Eppure si stima che ogni anno vengono abbandonati circa 80.000 gatti e 50.000 gatti, più che l'80% dei quali rischiano di morire, di uccidersi o di stessi. E' un fatto che ci sono parte della famiglia, tutti gli effetti, e i fratelli di Stai e i fratelli del barco per garantire un'unità di limitiose e una raffetto. Tra le nostre iniziative cambiate in questa legislatura c'è, ad esempio, una strada felera e abbatinata il mar. Ma ancora più importante saranno le campagne di uomazion e informazioni sulle esperte delle anzi che vanno fanno partire proprio dal tuo cuore. Volevamo passare a cercare di venire la tratta del legale, circa per cento mila acce che arrivano da queste oltre. Torniamo a trovare un'unità di 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 una cosa che si stia. E noi vogliamo creare un'unità di benvenza e che due possibili a entrare in uno stesso scenario Grazie a tutti.